«Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro», dice il Signore. In quel tempo uno dei commensali, avendo udito questo, disse a Gesù «Beato chi prenderà cibo nel regno di Dio». Gli rispose «Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati «Venite, è pronto». Ma tutti, uno dopo l'altro, cominciarono a scusarsi. Il primo disse «Ho comprato un campo e devo andare a vederlo, ti prego di scusarmi». Un altro disse «Ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli, ti prego di scusarmi». Un altro disse «Mi sono appena sposato e perciò non posso venire». Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al suo padrone. Allora il padrone di casa a dirato disse al servo «Esci subito per le piazze, per le vie della città e conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi, gli zoppi». Il servo disse «Signore è stato fatto come hai ordinato, ma c'è ancora posto». Il padrone allora disse al servo «Esci per le strade lungo le siepi e costringeli a entrare perché la mia casa si riempia. Perciò io vi dico, nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia cena». Gesù è a pranzo, è stato invitato da un fariseo e mentre sta mangiando uno dei commensali proclama una beatitudine. Beati quelli che prenderanno cibo nel regno di Dio. Il banchetto di cui parla quest'uomo è il simbolo della gioia del paradiso. È bella questa esclamazione di questo commensale. È bello vedere il suo entusiasmo per la vita eterna. Gesù non perde l'occasione per una catechesi. Gesù non è mai banale, neanche quando è a pranzo, sempre parla come colui che vuole aprire il cuore all'immenso dono di Dio. Il fatto che il commensale abbia detto «Beato chi prenderà il cibo nel regno di Dio» suggerisce a Gesù una parabola per spiegare come si entra a partecipare alla gioia del banchetto del cielo, come si può vivere in realtà la speranza di vedere il compimento della propria vita. L'immagine della tavola suggerisce appunto a Gesù una parabola che inizia. Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. Si sottolinea con precisione, la cena è grande, gli inviti sono molti. Ci si aspetta già di vedere la scena della festa, ma nella parabola avviene una sorpresa. Gli invitati non fanno quello che dovrebbero fare, gli invitati devono rispondere all'invito. Per la cena è necessario avere l'invito e loro lo ricevono gratuitamente, ma non rispondono perché hanno le loro priorità. Uno ha la proprietà del campo e quindi deve seguire la sua proprietà. C'è chi ha la necessità del lavoro, i buoi da seguire nel lavoro, oppure ha l'affetto da seguire. Mi sono appena sposato, quindi l'invito non lo accetto. In realtà, se vediamo, sono motivazioni lecite, buone, seguire la proprietà, lavorare, sposarsi. Tutte azioni buone, ma ciò che determina il fallimento di quella cena è il fatto che pur per motivazioni buone uno non accetta l'invito. Partecipare al banchetto del paradiso, ricordiamolo, ecco il senso della prima parte della parabola, è una cosa bellissima, ma per parteciparvi è necessario rispondere a un invito. Lo ha tradotto in parole molto semplici Sant'Agostino quando dice Dio ti ha creato senza chiederti il permesso, ma non può portarti in paradiso senza il tuo sì. Dio ti chiama a decidere rispondendo a un invito. Dobbiamo meditare su questo, sulla struttura fondamentale della fede che è basata sull'invito. Noi che siamo cristiani non per scelta, ma per un dono che ci è stato dato fin da bambini, dobbiamo stare attenti al rischio di dimenticarci questo, che appunto la struttura fondamentale del nostro rapporto con Dio si basa sulla nostra decisione di rispondere ai suoi inviti. Noi tante volte pensiamo questa cosa la faccio perché è buona per me, io penso che sia bello per me decidere questo. Mettiamo fondamentalmente al centro noi stessi, anche pensando che siamo persone buone, ma mettiamo al centro noi stessi. Facciamo anche cose buone appunto, ma partendo da noi. Gesù rovescia la prospettiva, ci invita a rovesciare la prospettiva. Nella vita devo essere pronto a riconoscere gli inviti che il Signore mi fa e dire di sì. In questo senso si parla della vita come vocazione. Noi rispondiamo con le nostre scelte a degli inviti che il Signore ci fa. Per esempio questo è detto chiaramente nella messa. Uno va a messa perché? Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Tu sei lì perché hai detto di sì a un invito, ma questo vale per tutti gli aspetti della esperienza umana ed è allora fondamentale un atteggiamento spirituale che si chiama capacità di riconoscere nella vita concreta, negli incontri, nelle relazioni che abbiamo, delle cose che ci capitano, l'invito che il Signore ci fa. Quale decisione il Signore ci chiama a porre? A partire dalla decisione fondamentale della mia vita. Sono chiamato a vivere nel matrimonio, sono chiamato a vivere nel sacerdozio, sono chiamato a vivere questa missione. Tutto deve essere scelto come un sì detto all'invito del Signore. Ogni nostra decisione per portarci al cielo, al banchetto del padre, è una risposta all'invito del Signore. Ecco allora quanto è importante avere dentro di noi un lavoro di preghiera, di conversione, anche di penitenza, anche di confronto nella confessione e anche un aiuto dei fratelli, ecco la famosa dimensione sinodale, che ci deve aiutare a riconoscere che cosa il Signore mi chiede, che invito mi rivolge. Ricordate il rimprovero che Gesù ha fatto, voi siete capaci di riconoscere i segni che annunciano il tempo meteorologico, se piove, se farà caldo e non siete invece capaci di riconoscere i segni del tempo presente. Riconosciamo dunque questa fondamentale esperienza e domandiamoci, io ho questa attenzione per riconoscere gli inviti del Signore? Per vivere nella mia vita in ascolto di ciò che il Signore mi chiede, ti benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona giornata.